Il mio nemico che fanno finta di non conoscere se è solo zio e nipote, lo zio ha sistemato il nipote e tutti stanno zitti. Se tutti voi non mi aveste credito, adesso io non sarei libero e felice. Sono stato io. No, è stato un altro. Siamo stati tutti. Siamo tutti colleghi, non amici. Capito? Siamo stati tutti.